Il Comune di Narni Vabbè, comunque, vogliamo iniziare con la gara o vogliamo continuare a fare altro? Sì, continuiamo a tirare sui dati, per esempio, toc toc Vabbè, cominciamo subito a presentare i primi partecipanti Allora, intanto si preparino i primi cinque partecipanti Il gruppo di Mulan è pregato di venire qui perché non si ritrova, sono dispersi Se li conoscete, chiamatevi sul cittadino Cominciamo con i primi che sono Gilberto e Michela Che portano Piramidead e l'infermiera da Silent Hill Vai! Applausi Grazie 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 Grazie